Ciao a tutti amici di Città, siamo qui allo stelle a guardare e a sbriciare i simbricoli e le novità per il prossimo inverno. Buongiorno a tutti, siamo qua adesso a presentare questo nuovo prodotto dal Vello, scarpone freeride, modello cabrio, con possibilità di camminare, fatto apposta per i veri amanti della montagna, sola in vibra, ganci, tre ganci, possibilità di allentare per la possibilità della camminata con sgancio posteriore, scarpetta termoformabile, lo scarpone è stato fatto apposta per questo attacco, è un nuovo attacco della marker da freeride, kingpin, dove si può essere fare delle salite in quota per poi fare delle discese in muzzafiato in sicurezza. con questo io avvenirei un'ottimo sci, un'ottimo sci che è il BMT, struttura in legno, carbonio, molto leggero, con la possibilità di aggancio delle pelli per delle salite, delle gite emozionanti per poi fare delle discese alquanto emozionanti. Vi ringrazio e venite a trovarci e a provare il nostro sito. Grazie mille Diego, ti ringraziamo, ci portiamo marker, cuore che è da bello che ci danno la garanzia di poter far fatica in salita ma divertirci in stacco anche in discena. Ci vediamo l'anno prossimo, ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.